Siamo giunti a quel pezzo del programma di Il Parente Misterioso. Buonasera, siamo qui con lo zio Claudio, lo zio di Emanuela Fanelli. Emanuela, ci sei? Sì, eccomi. Ciao, ciao, zio. Ciao, ciao, ciao. Allora, vogliamo iniziare con la prima domanda al parente misterioso? Sì, parto. Prego. Zio, sei stato tu il mio padrino al battesimo? Eh, forse, ma forse sì, ma forse no, non credo, ma no, non lo so. Veramente è misterioso, sembrava, quando ha detto forse sì, no? Pure io pensavo, invece poi... E invece subito dopo lui... Ti serve vedere le mani? Magari, sì. Possiamo far vedere le mani? Eh, sono le mani di mio zio, sì. Sono le mani del tuo zio. Ne faccio un'altra? Un'altra domanda. Allora, zio, i famosi 20.000 euro del notaio di quando abbiamo venduto casa di nonna a Foce Verde, guarda che già farbaco, io lo vedo, che poi sono spariti. Te li sei intascati tu? Ma... Penso... No, non credo. Ma forse sì. Ma secondo... Ma non lo so, guarda. No. Eh, no. A seconda addirittura. Guarda, con questa cosa del notaio, una discussione a casa, ancora dura. Non se ne esce. Non se ne esce. Sono dieci anni che va avanti. Va bene. Va bene. Grazie Emanuele. Ciao, grazie a voi. Ciao, zio. Grazie al parente misterioso. Grazie. Grazie.